L'ufficio di prossimità a breve in Casentino presso l'Unione dei Comuni con l'assessore regionale Vittorio Bugli. Quale il contributo della regione e quali vantaggi assessore per i cittadini? Noi abbiamo aderito da subito al progetto lanciato dal Ministero, ormai nel 2017 siamo una delle prime nelle tre regioni sperimentali insieme a Piemonte e Liguria e fra queste tre siamo anche quella più avanti. Mettiamo a disposizione la parte informatica, la procedura attraverso la quale verranno redatti i fascicoli, trasmessi in tribunale, poi trasmesse le risposte presso l'ufficio di prossimità. Mettiamo a disposizione i mobili, l'arredamento dei locali e facciamo tutto il lavoro di formazione per la parte informatica ma anche complessivamente agli addetti aiutati ovviamente dal sistema della giustizia. Pensiamo sia un progetto importante perché abbiamo già chiesto le prime disponibilità ai comuni, già 15 sono i comuni che l'hanno data o comuni o associazioni come nel caso interessante e positivo dell'Unione dei Comuni del Casentino che fa da riferimento per tutti i comuni di questa importante parte della provincia di Arezzo e abbiamo altre richieste, presto faremo un altro bando. Se riusciamo ad avere una distribuzione di sportelli, di uffici di prossimità sul territorio regionale riusciamo a dare un servizio in modo particolare a quei cittadini per alcune pratiche, quelle più importanti per loro, di non dover andare sempre in tribunale con un sistema anche un po' complesso delle volte di attesa eccetera ma attraverso l'ufficio di prossimità con un sistema tutto digitale quindi veloce per avere una risposta, avere il servizio diciamo vicino a casa. E dopo il Casentino anche la Valtiberina sarà interessata da questo progetto? Sì, oggi firmeremo l'accordo anche con la Valtiberina a Sansepolcro, anche nel Valdarno c'è un interesse che forse si concretizzerà un po' più avanti ma già da oggi lo stesso percorso che stiamo facendo in Casentino lo faremo anche in Valtiberina anche perché debbo dire che sia da parte della Presidente della Corte d'Appello Cassano ma anche della Presidente del Tribunale di Arezzo Galantino su questo progetto c'è stato un impegno notevole e deciso e ovviamente quando si riesce a lavorare insieme più soggetti istituzionali tutti convinti di andare avanti velocemente il risultato si ottiene. Il progetto dà concretizzazione a tre valori costituzionali. Il principio di solidarietà perché mostra attenzione alle fasce più disagiate della popolazione a quelle che hanno meno conoscenze, meno conoscenze tecniche, meno possibilità di accedere in maniera informata ai servizi della giustizia. Dà attuazione al principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge perché elimina quelli che sono gli ostacoli che di fatto impediscono un accesso delle fasce più deboli ai servizi giudiziari cui hanno diritto previa compiuta informazione dà infine attuazione all'articolo della Costituzione che prevede che la giustizia sia amministrata in nome del popolo. Quindi con questo progetto noi ci proponiamo di mostrare in concreto l'attenzione dell'istituzione giudiziaria alle esigenze delle persone che più hanno bisogno di essere accompagnate nel loro percorso di vita spesso difficile. È una proposizione questa degli uffici di prossimità alla quale stiamo lavorando da un po' di tempo proprio perché credo tantissimo nell'esigenza di essere vicina alle esigenze delle persone che hanno maggiori disagi nel rapportarsi con il servizio giustizia per le distanze dalle persone periferiche della provincia fino al capoluogo e per diverse conoscenze che non consentono di accedere alle strutture telematiche e per conoscenze che non sono proprio tipiche di coloro che si occupano di giustizia in senso lato e quindi dei vari istituti che fanno capo alla volontaria giurisdizione. Al momento partiamo con alcuni istituti di volontaria giurisdizione, quali sono le amministrazioni di sostegno, quali sono le tutele, quali sono le autorizzazioni per i minori, le autorizzazioni per l'espatrio eccetera, sempre per i minori e speriamo, è questo l'impegno, di ampliare questo servizio anche ad altri istituti. Bisogna partire con calma, radicarsi nelle pratiche e poi evolversi ovviamente. E all'interno dell'Unione dei Comuni, da chi sarà costituito il personale che si occuperà di questi uffici? Sì, presso l'Unione dei Comuni è già stato individuato il personale che si occuperà dell'ufficio di prossimità presso l'Unione dei Comuni, siccome è stato individuato presso la Cancelleria del Tribunale il personale che sarà il diretto interlocutore con il funzionario dell'Unione dei Comuni che risponderà dello sportello. Questo non solo al fine di chiarire nell'immediatezza, evento a fugare, i dubbi che possono ovviamente essere presenti in chi non fa abitualmente questo tipo di lavoro, ma anche con riferimenti telefonici, ma anche con l'apertura di una casella elettronica, una per ogni sportello di prossimità che consenta l'interlocuzione telematica per far fronte alle difficoltà. È prevista inoltre anche una formazione teorico-pratica presso le cancellerie, presso la cancelleria, di modo che il personale che lavorerà presso lo sportello potrà conoscere il seguito della pratica e questo potrà sicuramente agevolare l'indirizzo che è da dare all'utenza, la documentazione da acquisire dall'utenza e via dicendo. Cioè bisogna capire come funziona per poter capire come si inserisce il suo ruolo in quel complesso percorso. Abbiamo, come dicevo anche in precedenza, aderito sin da subito a questo progetto perché sia personalmente che come Consiglio dell'Ordine lo abbiamo ritenuto utile per ovviare a certe carenze che delle scelte legislative anche recenti avevano introdotto di fatto impedendo o rendendo molto più difficile l'accesso al servizio di giustizia da parte di varie categorie di cittadini. Quindi abbiamo aderito volentieri anche perché la presenza degli ordini avvocati in origine nel progetto ministeriale non era prevista, quindi è stato da una parte un riconoscimento del ruolo che l'Ordine degli Avvocati svolge anche per tutta la comunità e dall'altro in punto di volontariato è importante perché l'attività dell'Avvocato non deve secondo me essere limitata solo all'attività professionale. Io sono stato consigliare per tanto tempo, ora sono il Presidente dell'Ordine quindi posso tranquillamente dire che la nostra attività è improntata anche a forme di volontariato che sono necessarie sia per quanto riguarda l'aiuto ai colleghi che per quanto riguarda un aiuto in generale ai cittadini. È un servizio innovativo, siamo tra i primi territori in Toscana e in Italia ad avere questo servizio, un nuovo modo per stare vicino ai cittadini. Noi sappiamo benissimo che i nostri cittadini hanno spesso bisogno di essere accompagnati, qui facciamo servizi di interesse anche sociale, quindi sappiamo bene cosa significa stare vicini ai cittadini. Vogliamo dar loro una mano in maniera ulteriore, qui invece avvicinandoli alle questioni giuridiche, tutto quello che riguarda le pratiche dell'amministrazione di sostegno, la tutela, quindi questioni di interesse giuridico. Vorrei sottolineare che noi siamo un territorio delle aree interne e questo è sicuramente un ulteriore segnale significativo di come le istituzioni vogliono avvicinare i servizi ai cittadini invece di allontanarli. Non si dovrà più andare ad Arezzo per fare e disbrigare tutte queste pratiche, ma sarà sufficiente recarsi qui a Poppi dove si troverà anche tutta una serie di altri servizi che saranno a corredo anche di quest'ufficio.